secondo voi a un gioco come questo posso mai essere calmo non credo proprio vabbè in poche parole bene a tutti i ragazzi e qui il vostro ciammi 94 e benvenuti in troll face quest 2 perché il 2 perché il primo l'ho visto l'ho visto tutto quanto quindi dato che non mi sembrava giusto nei vostri confronti allora ho deciso di fare 2 che non so cazzo mi riti troll face immagino crescero ma perché l'agga cazzo mi riti sì da oggi in voi ti chiamerò popo ciao popo super duper vip night club che cazzo sta giocando ehi bello fammi entrare io sono tra te aia vediamo un po come si fa allora ragazzi una stella oh oh le stelle non si fa così ok mo devo mettere a pensare vediamo un po bello che ha fa barb però è l'alto ma che c'entro obama ma che c'entro obama oh mio dio che stanno fuori dalla testa si ok vediamo questo che è non lo so ma mi sa tanto da inquietante vuole scattare una fotografia dai è morto sono morto vediamo forse cliccando addosso a sto cazzo mi riti e che dovrei fa vediamo un po forse così funziona popo ciao popo comunque ho vinto oh la luna che bella la luna ok non rispondo più ragazzi mi dispiace ok e quindi troppo calda vediamo questi qua questo è troppo calda verso anche qua popo aiutami popo niente oh 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 aspetta che è popo si fa la doccia popo 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 ti fai la doccia popo e io che dovrei fa nooo bastardo mi ha fatto cadere bastardo forse qua no mi fa sempre cadere ok ok ragazzi jammy jammy accendi il cervello basta acceso allora vediamo le finestre si possono prendere no questo no questo già l'ho cliccato qua già l'ho cliccato che è qua popo 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 io ti amo popo popo il grande popo il grande popo il grande vai attaccalo popo che è metal detector non credo che tutta st'armatura puoi passare popo dimmi tu aiutami giusto mi pare anche logico tu tu stai digitando sul computer questo che sono ci hanno scamato ragazzi dobbiamo rifare ok jammy pensa allora vediamo popo fa iiii e mi pare anche logico lui che fa lui vabbè digital computer questo va qua questo altro va qua che cos'è? ma che è? no ma sia madonna che cagata vi prego vabbè vabbè no popo attacca popo popo ma non ti drogate la lana che fa? pure la lana ma basta non ti drogate non mi dire pure la luna ma pure la luna bestemmia no cioè non ha un senso non ha senso non ha senso sto gioco popo continuiamo basta ok devi fare ci devi buttare da qua sopra col paracadute popo fai qualcosa? nooo sei morto popo no popo no ok l'elicottero fa iiii 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 allora ricapitolandolo 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 l'elicottero non fa una ciosba ehm popo muore io muoio le nuvole forse fanno qualcosa ma manco per il cacchio questo qua esco vediamo questo eh calma prima era uscita una manina manina non mi sbaglio prima è uscita una manina e che dovrei fare? allora fammi pensare fammi pensare allora l'elicottero non fa un cazzo io mi butto e muo popo si butta e muore forse si fa qua qualcosa la roccia non fa niente allora 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 ci sarà un qualcosa io mi butto e muo e questo ride va bene ridi ripottero forse con qualcosa qualche tastino niente provo buttati giù ok un po' comore allora mmm insomma «Histurholme dal l'remo sentito out come del bar campano le pigli umi Ma va a cagare, vai, ma va a cagare. Che devo fare? Che devo fare? Ok. Ah, devo trovare scoppi da coppia, ok. No. Troll face. No. Questo qua? Madonna mia, che culo, raga. Comunque, dai, ma, allora. Questo qua? No. Questo qua? Questo qua? Giusto. Questo qua? Allora. 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 ma 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 popo no ma che capa perché si vuole suicidare sempre popo bastardo dammi la caramella dammi la caramella dammi la caramella dammi vediamo qua forse tronciuo se si no canna da pesca caramella qualcosa venga mi che dovrei fare forse proprio non lo dovevo togliere ok aspettate un attimo ragazzi forse ho sbagliato io forse proprio non lo dovevo togliere e che dovrei fare allora tomba e questo ride tomba e questo ride tomba e questo ride e che devo fare ok forse i palazzi qualcosa niente madonna ti prego ti prego fa che non è successo ti prego che gran cagata che gran cagata capitan schettino ai vostri ordini oh boh oh è un guarrato è il primo colpo ragazzi madonna ragazzi è una bestia trollanic trollanic questo è bellissimo mi dispiace che lagga ragazzi ma non capisco il motivo il mio computer fa schifo ok popo fai qualcosa mi pare anche logico ha ragione hai sempre ragione popo scusami si quanto sei bellino ma quanto sei bellino tu ma qualcosa ok si mangia lo squalo popo fa popo fa popo fa popo fa ed è bellissimo bellissimo popo ok se lo mangia lo stesso vabbè 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 vediamo un po' vediamo quest'altro lì forse se preme no se lo mangia lo stesso mi deve trollare in qualche modo sto gioco ma popo sta facendo un bagnetto basta ok ok giammi concentrati allora popo fa guempi guempi poi io così no sto diventando nervoso e non va bene sto diventando nervoso e non va bene clicca 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 dappertutto che dovevo fare è O che è? mi sto innervosendo e non va bene perchè questo è un gioco del minchia pipo pipo pipi ma che cazzo era quel coso aspetta aspetta dai 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 fai 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 oh mio dio vi prego francesca vai tu si manna questo è il posto ovviamente siamo qua quindi che doveva sta qua forse devo prendere qua si mamma ho chiamato papà papà vuoi madonna sti numeri 15 come al tempo il bacino sono capitano schettino basta io best not foca ma che devo fare fatemi capire 7 e 25 11 e 5 7 e 25 ma popo c'è popo vabbè popo si droga mi sto veramente facendo mi sto innervosendo che devo fare madonna te lo giuro sei una grande cacata mi incazzo eh non mi devo scemonire qua davanti forza allora allora basta basta madonna allora con calma con calma si fa tutto madonna che palle madonna che non muove tu l'orologio che baggato 7 e 25 ho capito allora 7 e 25 che c'era un bottone sopra che mi faceva andare come come ti pare normale e perchè dovete cliccare popo no popo sta qua non serve a niente no ti ho detto che sto gioco ahhhh comunque meno 50 eh stai morendo dal caldo grazie al cazzo sì ok sì ok vabbè 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 io non dico niente più dopo dopo qua c'è un casino che 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 c'è ma io mi arrendo raga io mi arrendo questo che gira popo fai qualcosa gira gira vabbè vabbè popo gira ok questo fa un cazzo la spina ok ho levato la spina ma continua a ruota ok che ah forse devo tenere premuto e allora popo c'è dio ragazzi vabbè popo c'entra sempre qualcosa popo è il più carino guarda questo non mi piace la faccia eh guarda poi gira popo ma non ho capito che è sti automatic e manual null null l'automatic come si deve fare eh tutto 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 lo io non parlo più io mi arrendo allora parlo io no non ti preoccupa popo birra popo voglio bere la birra c'era capito giuro ve lo giuro io sto bevendo tutto a caso c'è vabbè o il pirata ciao pirata di merda popo fai qualcosa è molto poco una granata che siamo morti entrambi dai la chiave dai la chiave per il tesoro perché ridi ridi niente manco il banzuga ti uccide sei è un highlander è un highlander che faccio no mo aspettate mo so what allora so what adesso ma voglio vedere che cazzo c'è nello scrigno nello scrigno voglio me dio esigo esigo di vedere dopo questo gioco che c'è nello scrigno muoversi forza muoviti mi ne vado basta ciao ciao no cazzo 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 cazzo